Franco Tarquini torna sindaco a Tossicia per il terzo mandato dopo i primi due, le prime sensazioni? Le prime sensazioni, un'emozione non indifferente, ci aspettavamo la vincita ma non a questi livelli. Il merito sicuramente è di tutta la squadra, una squadra giovane, loro saranno il futuro di Tossicia per i prossimi 15 anni, 20 anni, ma oltre a Tossicia penso che saranno il futuro dell'entroterra, loro è una squadra che può vedere tutte le problematiche di tutti gli altri comuni e insieme a altri comuni portarle avanti per il nostro territorio. La prima cosa che farò appena mi segnerò, io ho tante priorità, sinceramente domattina la prima cosa che mi viene in mente, cercherò di risolvere nella prima mattinata di domani in Comune. Cosa è mancato negli ultimi anni a Tossicia? Negli ultimi anni a Tossicia io penso che sapete bene la questione del commissariamento e quindi un'amministrazione non amalgamata fra di loro e quindi è mancato soprattutto il contatto con i cittadini, il contatto con il popolo e parlare dei problemi del territorio con il popolo. Cosa vuole dire a chi l'ha votata ma anche a chi non l'ha votata? Allora a chi l'ha votato voglio dire grazie, ma grazie veramente, io non mi aspettavo questi risultati qua, questo risultato forse andrà oltre il 70%, a quelli che non mi ha votato io dico che io sarò il sindaco di tutto, di tutti anche quelli che non mi hanno votato saranno i primi che possono venire in Comune per risolvere qualsiasi problema, ma già qua, d'altronde siamo una piccola comunità, ci conosciamo tutti quanti, non vuole rimanere l'odio per chi andava a governare Tossicia. Noi avevamo un programma, loro avevano un programma, ci siamo confrontati nelle piazze con tutti quanti e questo è il risultato. Grazie.